Sono ripresi questa mattina presso la prefettura di Taranto gli incontri individuali con i referenti delle amministrazioni responsabili degli investimenti programmati ed ammessi a finanziamento nell'ambito del CIS per l'area di Taranto. I lavori sono stati preseduti dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il senatore Mario Turco alla presenza del prefetto Demetrio Martino mentre hanno partecipato da remoto i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Invitalia e di Investitalia. Noi anche oggi lavoreremo su due fronti ossia accelerare quelle operazioni che erano ferme da diversi anni e tratteremo sia l'affidamento dell'ospedale San Cataldo, poi avremo l'incontro molto importante con Mittal e i commissari Ilva sulla questione delle acque reflue ed inoltre avvieremo con una serie di imprese che hanno manifestato interesse a investire su Taranto un percorso di accordo di programma per favorire insegnamenti produttivi nuovi in economie diversificate che permetteranno di creare nuove filiere e nuovi livelli occupazionali. In particolar modo oggi approfondiremo sia alcuni settori industriali del biometano, andremo poi ad affrontare la questione della creazione di un depuratore all'interno dell'arsenale militare dove vi è un interesse di una società privata ed inoltre andremo poi ad approfondire una tematica su Massafra su un insediamento produttivo privato legato alla medicina di precisione e alla medicina preventiva. Noi innanzitutto in ultimo proprio oggi completeremo la documentazione che permetterà alla struttura di missione in Vitalia di procedere nei prossimi giorni all'affidamento della costruzione San Cataldo. Quindi in tempi molto veloci abbiamo ultimato l'incartamento amministrativo dopo la sentenza del Consiglio di Stato e quindi nelle prossime ore saremo pronti all'affidamento. Inoltre tra qualche settimana siamo pronti anche ai primi affidamenti per quanto riguarda la riqualificazione della città vecchia. Abbiamo ultimato le bozze dei bandi, li stiamo esaminando e quindi presto l'amministrazione comunale potrà a questo punto procedere con gli affidamenti delle riqualificazioni di quei palazzi che abbiamo finanziato con i 90 milioni della città vecchia. Grazie a tutti!